E oggi ci si prova, siamo con il tanghero, eccolo vì, tangheroni number one, ha detto il porta fortuna, vediamo, vediamo, si spera un futuro vigile del fuoco nuovo, l'attrezzatura ce l'abbiamo, oggi è la giornatelle fortuna e speriamo anche il mare ci vediamo alcuna, via, buona! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!